L'associazione Siamo Taranto è di nuovo a Tramontone, la raccolta di rifiuti, l'azione appunto di volontariato a supporto dell'attività propria istituzionale di Chima Ambiente Amio. Mentre stavamo per andarcene un volontario mi ha fermato e ha detto vorrei dire qualcosa. Sì perché in realtà io volevo dare un'informazione che sembra che molti non sanno ma siccome abbiamo visto che ci sono tantissime mattonelle, tantissimi materiali di risulta, volevo dire a tutti che un tino nero ogni volta che si fa una ristrutturazione costa come smaltimento soli 2 euro. Quindi voglio dire non è che il prezzo è così alto e così diciamo e quindi... Si fanno tanti lavori, si spedono migliaia di euro e poi ma fossero anche ventitini sono 40 euro. 40 euro. Di fronte magari a 8 mila euro, no? 8-10 mila euro che è la media per rifare un bagno. Quindi siccome molta gente secondo me non lo sa, però in realtà se voi andate da Campo o da tanti altri che appunto prendono tutti questi materiali di risulta, in un tino solo vi costa 2 euro. Quindi voglio dire non è un grandissimo sforzo. E soprattutto... No dottor Abbate che cosa ne pensi? Ma è una riflessione giustissima quello che lei fa. Oltretutto dobbiamo entrare nell'ottica che casa nostra non è solo quello che sta al di là dell'uscio, della porta di casa. Questa è casa nostra. Infatti io volevo sottolineare che io sono sempre un po' convinto che si parte dal condominio e poi si va oltre. E qua il concetto di spazio comune deve essere fondamentale. Lo spazio comune, scusate ogni tanto qua si sentono... Ma non è la prova provata del lavoro. Lo spazio comune deve essere un concetto più alto. Lo spazio comune non deve essere la terra di nessuno ma deve essere invece la terra di tutti. Grazie. Grazie.